Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus Facciamoci la devia, adesso dobbiamo puntare a vincerne 3, quella di ieri è stata vinta se non erro, no, quella di ieri è stata persa, quindi conviene cominciare a vincere, noi dobbiamo vincerne 3 questo vorrei rilallarlo, questo è un I can see forever, ottimo, entriamo a gratis ottimo oggetto, cioè no, non è vero, però è gratis, quindi non rompete il cazzo anche shop gratis, che non serve assolutamente a un cazzo, perfetto, mi piacerebbe avere la bibbia però senza soldi, la vedo dura, questa è una can see forever quindi, eh sì, dimmi che è buona va benissimo due tiers up, mi smeglie che niente, come si suol dire beh, finché è il primo piano ce lo possiamo permettere di prendere danno, oltretutto siamo lazaro, quindi se ci fosse stata un hp up sarei morto volentieri possiamo portare due pillole, ma l'altra pillola non so che cos'è, in realtà possiamo portare anche una pillola e una carta forse non ho monete, non ho niente, andiamo, ho esplorato tutto, ci facciamo anche qui una can see forever, credo sì, perfetto, bombe, bombe, bombe ah, ma hai preferito bombe, eh e non ci sono neanche uno shop, è proprio una rana senza bombe questa stronzo, mi hai fregato una chiave vabbè, le chiavi sembra che non siano proprio il problema del mondo, effettivamente vorrei trovare altre tiers up, che sono tutte gialle se non erro ok va bene guarda ora che ci penso c'era una tinted? no facciamo esplodere robe lì non ci posso entrare, però qua posso far esplodere un po' di cose 11 il cuore blu me lo prendo, almeno il patto me lo sono garantito perfetto sì, stai belli vediamo prima se qua ci regala gioie chiave 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 va bene uguale c'era una chiave a 3 centesimi me lo ricordo oh yes alla mente non mi ricordo che fa, quindi sta bene lì merda ok, uno è andato, l'altro seguirà chiave chiave bombe no volevo prendere aspetta io potrei morire posso anche evitare morire in realtà faccio così e mi evito la morte sembra onesto sì, vado allora facciamo subito così non si sa mai me la evito merda non me la aspettavo penso fosse incastrato da qualche parte beh, in realtà forse ad esplodere sti cosi potrebbe uscire un magic mushroom cioè prima o poi intendo ok dimmi che è qua, dimmi che è qua, dimmi che è qua un attimo ho bisogno di chiavi caga me le chiavi però ok, chiavi ne abbiamo forse a sufficienza forse sì sì, no, infatti era improbabile che fosse lì in realtà merda che è saltato giù un cuore attenzione pay to play mi da 5 torno a 10 e non uso più chiavi per aprire le cose sto facendo sta roba orribile lo so ma la survivability prima di tutto sono gigante ciccione pesante dai filore bianche non ci interessano ok come se mi da c'è niente ma che pertro veramente questo oggetto è sicuramente meglio di Gappi Spoh e Gappi Spoh ah cazzo non ce l'ho più pertro ma aspetta provo sulla qua va bene anzi se dovrebbe funzionare comunque però esatto ci portiamo dietro Blackron che useremo subito magica 8 bombe che fanno robe e anche questa dovrebbe essere avvelenata ma infatti cazzo non ho visto la pillola va bene HP in più non ho soldi sì darmi soldi per esempio ok adesso abbiamo abbastanza monete per aprire niente magic mash o mini mash o mash a caso qua potrebbe quella è ottima perché è un tierzone passiamo da qua ho solo pillole positive come non avevo preso quel danno merda si può andare da mega sata da sì quella quella purtroppo non la conosco di pillola lì ho rischiato n1000 quella blu era qualcosa di buono ok così l'ho visitata questa lana è fichissima un po' lenta la posso fare me la sento merda merda totalmente inudine meglio shiny rock meglio west non male come ho preso danno ah con quello chiaro abbiamo 10 di danno ma non so quando le bombe cominciano a diventare massive ma non so quando le bombe sono lento ma che è no lì non c'entrerò alla fine mi stai dicendo questo qua qua si qua si non ok abbiamo espacato tutto espacato potrei selvaggiamente saltare il piano merda tanta roba si infatti questo è interessante è più interessante si è più interessante chiude ste batterie sono tutti i campioni allo stesso modo però non ho capito su che oggetto si dovrebbero basare tutte ste batterie non c'è qualcosa che mi spuglia e poi no, non me lo aspettavo che niente preferisco decisamente ma si andiamo giù, cerchiamo meno di fare la boss rush qualche punto in più lo vale no ma vaffanculo ero convinto che fosse lì ma non lo voglio qua no no, vabbè mi servono un sacco di cuore già meglio, già meglio non ci stiamo a provare non so neanche che cazzo sia merda che cosa cazzo è sta roba vi vola, ok ok quanto cazzo sei resistente porca puttana Grazie. 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 No. Wow. Allora, non può essere. Dai, lo so. L'ho visto troppo tardi. Merda. Qua mi serviva. Altro che... Andiamo giù? Andiamo giù. Ci si ripresenta l'occasione. Qua no, eh. Qua no. Qua no. Va bene. Finito? Io non so come si energizzano. Guarda, li prendo tutti e tre, ma solo per avere... Sparacoltelli. Sì, anche. Sparacoltelli anche. Ho anche un cazzo di botto di danno, credo. 25. Ce la posso fare. Scarred bomb, vai. Che botto. Bene. Semmo onesti. Intanto non ci serviranno mai tutte ste chiavi. No. Sì. Ma ancora? Mamma mia, che danno. Assurdo. Sì. 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 Merda. bomba e uno non mi ricordo se cambia la stanza allora amami t-shot t-shot e prendo danno va bene ci proviamo che damma fa tu che ci dici vabbè però il modem è fighissimo io voglio il modem se ce la daremo qua a prendere forse e forse no che pillola mi dà questo dovrebbe fare in modo che si sposti in automatico verso allora aspetta un attimo vediamo se qua c'è qualcosa no qui 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 no c'è un cacchio niente abbiamo pochi così questo non lo so niente è currency forever piuttosto no andiamo vediamo quanto danno siamo in grado di fare poco pensavo molto di più è proprio pochissimo avvelenano avvelenano mentre giù ho anche due low flies insomma c'è dei peggio nella vita rimane in lì antemove un po' Grazie a tutti. Dai, un paio di colpi. C'è una batteria? Per caso. Boh, niente di serio. Non vado da Delirium perché ancora non si è capito se dà punti o meno. Ah, questo è l'ultimo piano in cui lo posso usare, quindi tanto vuole usarlo. Questa non è niente, no? Niente di riconosciuto. Va bene. Me la sono vista tantissimo adesso. Sempre bellissima la musica di Stupiano. Mi piace un sacco il Gregoriano. Come è fatta a uscire da lì? Maledetta. Ma sono un coglione. Cioè, riuscire a uccidersi da solo è un fenomenale. Dai, cagami un cuore, su. Si può sapere dove avete messo le stanze segrete? Mannaggia a voi. Ne conosco una di queste pillole. Mamma mia. Monete. Ho provato. Ho sentito un rumore familiare. Ho sentito un rumore. Ma parco. No, non so che. No, so che è inutile. Non è vero che non so che cos'è. Dai, cagami... Mi bocca a capillole. Anche più o meno interessanti. Ma che cazzo sto facendo? Sto perdendo tempo e basta. Su, su. Dai, 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 dai. 384esimo al mondo. E andiamo. Sempre in top 500. Vediamo se qualcuno mi ha battuto. Non era con questo tasto. Aspetta. Con quale tasto? Ah, no, questo. Buono, 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 buono. Oggi è il 30, vero? Sì, sì, è il 30. Va bene, va bene. Siamo andati bene. Grande Z. Gran punteggio. Buono. Quindi è arrivato almeno fino al cuore, più o meno. Anche dopo, forse. Niente, ragazzi. Questo è tutto. Spero vi sia piaciuta la run. E ci si vede a un'altra puntata. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.